A pochi mesi dalla presentazione di nuova EV6, Kia aumenta la dose di sportività sostenibile inaugurando la versione GT. Un concentrato di performance che elevano la personalità non solo per l'estetica, ma andando a modificare il cuore del progetto EV6. La nuova eletta auto dell'anno 2022 ora vanta due motori, in grado di offrire una potenza complessiva di 585 CV, distribuiti su tutte e quattro le ruote motrici. Un apporto prestazionale che ben si sposa con un'estetica sportiva, affilata, che richiama il mondo delle hatchback, cavalcando al tempo stesso il successo e la praticità dei crossover. Ad aumentare la pille estetico ci pensa il reparto tecnologico con una firma luminosa che la rende inconfondibile, in particolare al posteriore dove forma un arco a tutta lunghezza. Curva che ritroviamo anche all'interno e che definisce la forma dei due display di cockpit e infotainment posizionati a sbalzo sopra la plancia. Il risultato è pratico ed esteticamente appagante, dando l'impressione di trovarsi su una vettura di segmento superiore, grazie anche all'utilizzo di materiali scamosciati e sedili avvolgenti con la dicitura GT. Scelta estetica che però non va ad influire sullo spazio di carico, che tra bagagliaio posteriore e piccolo scomparto anteriore arriva fino a 500 litri utilizzabili, un valore ottimo per la categoria. Ma visti i numeri la vera novità la troviamo alla guida, dove si apprezza il nuovo setup di sterzo, freni e sospensioni. Un lavoro dei tecnici che ha per portare questa EV6GT a gestire tanta potenza, con precisione e divertimento. L'elettronica si mette a disposizione del pilota, presentando oltre alle canoniche modalità Eco, Normal e Sport, un'esclusiva Drift Mode, in grado di inviare maggior potenza alle ruote posteriori e dare al pilota la possibilità di giocare con sovrastarsi di potenza. Una serie di caratteristiche che rendono nuova EV6GT la Kia sostenibile più votata al divertimento, offrendo tutti i vantaggi della mobilità ad elettroni con un bel boost di sportività.